Siamo a Stresa, 26, 27 e 28 giugno, Palazzo dei Congressi, che bolle! È un connubio tra arte, cultura e denogastronomia. Ci sono una ottantina di espositori totali, fra vino, cibo, scrittori, pittori, prodotti aziendali nel settore Oreca. Noi siamo Laro Cacegliere, siamo una piccola azienda di San Vendemiano e produciamo vini del 1960 in produzione artigianale o fermentazione in bottiglia o comunque vini tranquilli usando antiche varietà o varietà autottone. Noi ci occupiamo di agroalimentare. Abbiamo l'olio di Catania della Sada e l'olio di Malupa di Torre Maggiore Foggia. Ciao, io sono l'autrice, nonché protagonista di Diario di un cervello in fuga nel XXI secolo, un libro autobiografico che narra l'esperienza vissuta in prima persona quando io e il mio compagno abbiamo tentato di emigrare in Inghilterra. Si racconta tutto quello che ci è accaduto con un tocco di ironia perché è fondamentale nella vita. Spero vi faccia sorridere. Siamo l'azienda Vinicola Zanardo, siamo di Treviso e produciamo i nostri vini e speriamo in una lunga continuazione. Buongiorno a tutti, sono Silvio, il sommelier delle tenute Montemagno. La tenuta Montemagno si trova nel comune di Montemagno, produce vino, il vino autottone della zona, Timorasso, parliamo di Roquet e naturalmente avendo la barbera, la barbera di Ocg, la barbera superiore e non poteva mancare la barbera sfumatizzata. Questo che presentiamo è un 24 mesi. Noi siamo azienda vitivinicola La Psigola, siamo a Curino, provincia di Biella e facciamo parte della cadera del super vulcano della Valsesia, quindi terra rocciosa, porfidi, rosa. Facciamo piccoli numeri suddivisi in quattro vini, le due doc del territorio, Bramaterra e Coste della Sesia, quindi due vini rossi. Inoltre facciamo un classe 21 che non proponiamo tutti gli anni, che è sempre un vino rosso e poi da quest'anno è rosa, un rosato 100% nebbiono. Siamo un'azienda familiare, arrivo direttamente da San Damiano d'Asti, la nostra azienda si chiama Carlin de Paolo, proprio in onore al nonno e al bisnonno, quindi vini di pregio da quattro generazioni. Noi siamo produttori, quindi coltiviamo, coltiviamo l'uva, produciamo il vino, vendiamo il vino. Questi sono tutti i vini che noi portiamo, dalla Barbera, alla Bonarda, al Dolcetto, Grignolino, al Cortese, al Chardonnay, al Arnaise, al Moscato, al Spumante. E siamo qui ad aspettare tante persone che hanno piacere di assaggiare i nostri vini e i vini di tutti i nostri colleghi. Quindi vi aspettiamo qua a Stresa, numerosi. Grazie, spero di vedervi presto. Grazie.